buongiorno benvenuti in questo nuovo video di pulizie oggi l'ho fatto un po stile vlog perché ho fatto vabbè siamo svegliati abbiamo fatto colazione e adesso devo fare una cosa noiosa c'è l'ha che fa qualche casato e praticamente devo siccome lui mi ha fatto un regalo bellissimo mi ha fatto la staffa sotto il livello del bagno che erano mesi che andava fatta e io adesso tutto tutto incasinato qui e quindi praticamente adesso io devo pulire lì sotto perché lui avendo fatto i buchi col trapano nel muro c'è il sporco e devo riordinare selezionare tutta questa roba in modo che poi dopo la posso mettere sotto a modino in ordine e quindi intanto facciamo questo e poi vediamo cosa ne esce in capo alla giornata di quello che riesca a fare anche perché insomma è domenica e lo voglio fare prima che poi domani ma comincia la settimana almeno tutto sistemato però vorrei anche riposare quindi frattempo faccio questa cosa che comunque mi sembrava interessante da far vedere che rimettere visto selezionare tutto mentre tutto a posto magari può dare qualche spunto d'idea insomma o qualche motivazione in più per se qualcuno deve sistemare qualche armadietto magari vede il video e si motiva a sistemare cosa che succede spessissimo a me quindi perché 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 no dato che lo devo fare ne approfitto quindi io adesso stacco questo giro la videocamera e vi faccio vedere quello a dopo a dopo a dopo a dopo a dopo Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.